Prima è intanto solidarietà a tutte queste attività in difficoltà. Noi come Comune stiamo cercando di mettere in campo nei limiti delle nostre possibilità e competenze degli aiuti, dei sostegni, delle taglie alle spese, alle tariffe, come quella dei rifiuti, come le imposte, eccetera. Però da questo punto di vista possiamo far poco. È necessario un intervento del Governo in maniera importante. Non mi sorprende che tanti non apriranno in protesta perché i vicentini rispettano le regole, lo hanno sempre fatto dall'inizio della pandemia e sono un modello di comportamento da questo punto di vista. E se da una parte ad aver inibito un'adesione maggiore alla protesta IoApro ha contribuito la linea severa per il rispetto delle regole decise in Prefettura nell'ultimo Comitato Ordine e Sicurezza, tra i politici locali c'è anche chi si è schierato apertamente con i promotori. Io ho colto l'invito che è stato fatto da diversi ristoratori a livello nazionale perché ritengo che la loro volontà sia soltanto quella di poter lavorare in sicurezza. Nell'ultimo di PCM, tra l'altro, viene di fatto ritenuta movida il servizio d'asporto. Abbiamo fatto spendere tanti di quei soldi a questi signori per mettersi a norma, per garantire il distanziamento sociale, per garantire l'igiene in tutti i locali, in tutti i tavoli e adesso li chiudiamo. Ecco che un accorato appello viene rivolto al Governo. Un appello è quello a scendere in strada, a capire quali sono le problematiche, uscire dal palazzo, evitare i giochi di palazzo delle crisi pilotate e dare risposte ai nostri concittadini e alle nostre imprese. Ed è fondamentale lavorare sui ristori, quello è fondamentale.